Un progetto che giorno dopo giorno prende sempre più forma. Con queste parole il sindaco di Fano Massimo Seri ha espresso soddisfazione per la consegna degli attestati a coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione professionale per tecnico del marketing turistico della durata di 400 ore e addetto alle attività di promozione e accoglienza turistica di 500 ore. L'iniziativa, spiegato il primo cittadino, è collegata al progetto di riqualificazione dell'ex Collegio del Sant'Arcangelo, cofinanziato con lo strumento degli investimenti territoriali integrati, ITI, della Regione e connesso alla programmazione dei fondi strutturali europei. Oltre a comprendere la trasformazione architettonica dell'edificio che si affaccia su Corso Matteotti, il progetto della fabbrica del Carnevale prevede infatti anche l'attivazione di servizi e funzioni che promuovono la città e le sue inclinazioni culturali, una struttura che per sé riporterà un valore aggiunto e nuove opportunità. Servono sempre più competenze, specialmente nella comunicazione, nel marketing turistico, quindi è necessario saper anche comunicare e avere le professionali competenze adeguate. Coloro che hanno partecipato, che hanno conseguito questo diploma, questo riconoscimento possono utilizzarlo anche in altre circostanze. Ma quello che mi preme sottolineare è questo percorso che stiamo facendo, proprio in queste ore la Commissione sta definendo la dita che dovrà realizzare il progetto, quindi come dicevo un oltre riore tassello che si unisce per raggiungere questo obiettivo di valorizzazione della città nel suo insieme. I corsi, completamente gratuiti e finanziati dalla Regione, erano destinati a 15 partecipanti e 3 uditori per ciascun progetto e rivolti a disoccupati e inoccupati residenti o domiciliati nelle Marche in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. A consegnare gli attestati, insieme al Sindaco, il consigliere delegato al progetto ITI Fabrica del Carnevale Stefano Marchegiani. È il primo step collegato ai finanziamenti che riscatterà il Sant'Arcangelo abbandonato, ha spiegato il consigliere, e le attività di promozione e di gestione verranno svolte all'interno del nuovo spazio che comprenderà il Laboratorio Creativo, il Museo del Carnevale, la Casa del Gets, il Lab della Mobilità Sostenibile e il Centro di Restoro e di Aggregazione. ITI che cos'è? È un modo di raccontare il Carnevale tutto l'anno, ma anche un modo di ripensarlo, insieme ovviamente ai maestri carristi, di implementarlo e di cogliere l'occasione, la bellissima scusa, pretesto del Carnevale più antico d'Italia, per rilanciare la ricerca, la tecnologia, il confronto con ditte presenti nel territorio che implementino la mecatronica, i sistemi di movimentazione dei carri nuovi, tutte idee che servono sia al Carnevale, evidentemente che possono uscire fuori anche dal regime del Carnevale per invadere altri campi. Quindi creare vicino alla MEMO, vicino a quello che sarà il futuro museo archeologico di Fano nell'ex Finlanda Sperandini, un altro polo di ricerca e altre alternative per soprattutto i giovani, anche i meno giovani, che vogliono uscire di casa e trovare un contesto socializzante in momenti come quelli che abbiamo vissuto che penso ne reclamino il bisogno. Quindi è una bella giornata che corona un primo step e adesso i prossimi due anni e mezzo via al cantiere.